Buongiorno Matteo, buongiorno, ciao campione, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno ragazzi, è un belto ministro, è un posto politico credibile, forza e coraggio, forza e coraggio, è un grande, è un grande lei, dobbiamo toccare la mano anche a lei, io ho un ipote che gli giorni, è bello come me signora, io lo vedo bello, sei più bello dal mio, è più bello grande, ciao, ciao, no, normale, normale, normale signora, no, normale, normale, cerco di fare le cose normali, possiamo fare una cosa con il mio figlio Matteo? Certo, solo perché si chiama Matteo, fai qualcosa per Maddalena, hai capito? Ricordatene davvero, vedete che sei contro sole però marito, come la giro, così, aspetta eh, ecco qua Matteo, vedo uno dei miei, vedo uno dei miei, è beato fuori le donne lei, il ministro, è beato fuori le donne, bello, le preferisco, scusami, mi permetto una foto, è un posto? Ciao, molto piacere, vieni adesso, facciamo una foto, prenda lei che è più alto, vieni, che squadra tieni te? Juve, ma come Juve? Come fai tenere la Juve? Prego signora, chi ce la fa la foto? E se ha il telefono però lo faccia mai.